Buongiorno, sono Piero Dolce, mi occupo di finanza e credito ormai da tanti anni, credo che siano circa 40 e ho avuto modo di valutare tutte le evoluzioni che in questi periodi si sono succedute. Ho apprezzato molto la riunione per la premiazione delle eccellenze che si è tenuta ieri, molto interessante per poter valutare anche nuove realtà a volte che passano in secondo piano in quanto presi dalla quotidianità, quindi questi incontri sono assolutamente benvenuti e mi auguro che possono sempre ripetersi nel tempo. Molto interessante anche la riunione odierna con argomenti di varia natura, ma tutti veramente pertinenti a quanto ci riguarda il nostro mondo del recupero, mondo molto evoluto che ha necessità comunque di stare al passo con i tempi. Ringrazio l'organizzazione per le modalità, i tempi, le location, tutto perfetto.